Continua a gran voce la protesta degli infermieri precari dell'ASL-BAT. In tanti si sono ritrovati ad Andrea davanti alla sede dell'azienda sanitaria locale. Chiedono certezze sul loro futuro, temono di non veder prorogati i loro contratti e scadenza ormai il prossimo 31 ottobre. Dall'altro canto il direttore generale dell'ASL-BAT, Alessandro Delle Donne, ha ricevuto gli esponenti dei sindacati della FIALS & Nursing Hub, annunciando come si è in corso una interlocuzione con la regione Puglia. L'azienda sanitaria locale resta così in attesa di ricevere una nota ufficiale, una comunicazione volta a rintracciare una soluzione alla delicata problematica. Ma la scadenza fissata è ormai prossima e gli infermieri precari sono preoccupati e allarmati per il futuro che appare loro davvero incerto. Perché c'è un malessere generale, un stato di agitazione della nostra ASL perché a distanza di tre giorni dallo scadere dei nostri contratti noi non sappiamo ancora che cosa ne sarà dei nostri rinnovi o non rinnovi. La direzione ha emanato una nota, una delibera, con cui diceva che ci sarebbero stati dei rinnovi. Dopo qualche ora ha ritirato la stessa delibera. Noi siamo qua oggi che non sappiamo che cosa accadrà. E tutto ciò non è una situazione che viveremo solo noi come comunque situazione di malessere, ma è una cosa che si ripercuote anche sui reparti, anche sulla stessa utenza che da domani si vedrà venire meno, una continuità assistenziale importante. Perché parliamoci chiaro, noi precari siamo anche tanti negli ospedali, portiamo avanti i reparti, ci sono reparti critici dove ci sono veramente tante unità precarie. Quindi qual è la soluzione che ad oggi la nostra direzione sta attuando? Inoltre c'è un percorso nel quale noi possiamo rientrare anche per garantendo noi quella che è la nostra possibilità di poter accedere comunque al lavoro e quindi farci maturare i 36 mesi, loro invece ci stanno veramente mettendo in mezzo a una strada. E a scendere in campo assieme agli infermieri precari sono stati sindacati. Questi ultimi hanno denunciato la scarsa capacità di programmare dell'ASL e hanno avanzato la richiesta di vedere avviate nell'immediato procedure concursuali. Mettere fine al precariato, visto che le norme e le leggi ce lo consentono, di passare il personale a tempo determinato avente diritto della stabilizzazione subito, immediatamente a tempo indeterminato, di attingere per quelle unità ancora che servono dalla graduatoria del concorso di Bari e subito per questi ragazzi che sono fuori sia da un percorso che dall'altro attivare delle procedure concursuali che possono essere regionali, locali, ma attivarle immediatamente per i tempi così stretti. Veramente si creerà un vuoto di organico nei reparti. Questa è una situazione veramente paradossale, è surreale. Non programmare il proprio futuro, non programmare le proprie attività, secondo me è da amministrazione che non riesce a gestire.